Un parere sul Salone? Molto ben strutturato, solido nei contenuti, nell'organizzazione, nella partecipazione di relatori di altissima qualità. Insomma un appuntamento molto importante sul continuo, profondo, necessario dibattito, confronto sui temi della giustizia e della legalità. Giovani e legalità? È un binomio necessario ed è il binomio che segnerà il nostro futuro. Frontiere della riservatezza, nuovi sviluppi? In continua evoluzione, alla ricerca di equilibri nuovi tra il diritto alla riservatezza, un diritto fondamentale, e le eccezioni necessarie per ragioni di giustizia o per altre ragioni che impongono appunto ricerca di nuovi equilibri, continua attività di bilanciamento che fa il legislatore, a volte spetta la giurisdizione, ma necessaria per coniugare per esempio le esigenze di libertà e di sicurezza, di informazione e di riservatezza. Operazione non facile a fronte di una potenza diffusiva nota dei mezzi di comunicazione telematica. Ci sarà ancora da lavorare, buon lavoro. Buon lavoro a voi.